Dato che Halloween è alle porte, ho deciso di fare qualcosa a tema, ovvero una bella maschera personalizzata. Ora la vedete bianca, ma lo sarà ancora per poco. Datemi un attimo e cercherò di renderla un oni un po' diverso dal solito. Innanzitutto utilizzerò questi qua. Si tratta della linea Maker's Line di Schneider Pen, ed è perfetta per quello che voglio fare. Mi piacerebbe dare a tutto un tocco floreale, ma senza dimenticare la componente inquietante, perché è Halloween. Quindi ho scelto l'accoppiata di colori viola-verde. Dopo aver steso la base viola, ho creato una serie di viti cieliane che avvolgono la maschera e si attorcigliano. Ma secondo me il vero valore aggiunto lo danno i marker con effetto metallizzato. Marcatore al cromo con lucentezza elevata e inchiostro altamente pigmentato. E infine il tocco finale, i bordi molto definiti grazie alla combinazione di punte grandi e piccole. Siete pronti per il reveal? 3, 2, 1... Vi piace il risultato? Intanto io sono pronta per Dolcetto Schersetto.